Luca Regas Revisore Wow, buon pomeriggio a tutti. Le donne, i cavalieri, le armi, gli amori, è così che più di 400 anni fa un tale che rispondeva al nome di Ludovico Ariosto dava inizio ad un'opera che tutti nella nostra vita abbiamo in qualche modo conosciuto l'Orlando Furioso è così che da sempre mi piace immaginare i rapporti tra uomini e donne uomini coraggiosi, uomini disposti a combattere anche le battaglie più sanguinose donne sensibili, donne dedicate ai loro affetti, donne tutte prese dai loro amori sembra però che la società di oggi non condivida la visione dell'Ariosto sempre più spesso infatti si sente parlare di due concetti crisi del maschio moderno ed emancipazione femminile per crisi del maschio si intende il venir meno di atti di garanteria e di coraggio da parte degli uomini navigando in internet devo dire che non ho trovato fonti che testimonino l'attendibilità di questa tendenza ma devo ammettere anche che mi trovo d'accordo con la maggior parte delle lamentele che vengono mosse dalle donne stesse in quegli spazi online ovviamente sempre in riguardo alla crisi del maschio moderno per emancipazione femminile invece si intende, e questo è il secondo concetto si intende il miglioramento delle condizioni di vita delle donne dal punto di vista culturale, professionale, sociale, economico eccetera eccetera oggi con voi vorrei concentrarmi proprio su quest'ultimo punto emancipazione femminile perché se ci pensate bene di emancipazione femminile si sente parlare soprattutto in una chiave sociale ma se si controllano le statistiche si capisce che c'è ancora molto da fare a riguardo soprattutto in questo paese soprattutto in Italia è anche per questo che quando parlo di questo tema tendo ad allontanarmi dalle digressioni di tipo sociologico per lasciarmi andare ad una prospettiva personale più legata alla vita quotidiana di ognuno di noi per esempio verso la fine dell'anno scorso ho pubblicato questo breve libro dal titolo Laura, unità di misura della mia vita in quel libro ho preso riferimento il mio rapporto di coppia con una ragazza che è lì in mezzo al pubblico una bellissima ragazza dal nome Laura per parlare di relazioni sentimentali a 360 gradi in quel libro ho voluto inserire una serie di valori irrinunciabili per un rapporto di coppia e di qualità e allora di questi valori oggi vorrei portarne qui cinque voglio contarli con voi il primo la necessità di dedicare mille attenzioni alla donna che amiamo dare tutto di noi stessi in un rapporto di coppia è praticamente un imperativo categorico altrimenti non ne vale la pena davvero secondo valore la ricerca di momenti da dedicare solo ed esclusivamente alla coppia oggi viviamo in una società che ci offre un'infinità di stimoli diventa quindi sempre più difficile cercare dei momenti da dedicare solo al proprio rapporto ma dobbiamo provare a farlo perché dobbiamo provare a farlo? per costruire un'identità di coppia un concetto fondamentale identità di coppia quarto valore il coraggio di lasciare il passato alle spalle perché forse ieri l'amore ci ha fatto del male forse ieri l'amore ci ha fatto soffrire ma oggi il sentimento universale per eccellenza può davvero farci stare bene può davvero renderci felici quinto valore l'immaginazione di progetti per il futuro della coppia non sto parlando di disegnare percorsi precostituiti che il nostro rapporto dovrà per forza seguire assolutamente sto parlando di giocare a sognare un futuro possibile un futuro insieme perché non si sa mai che un giorno quei sogni si potrebbero realizzare quei sogni un giorno potrebbero diventare la nostra realtà la cosa interessante e qua arriviamo appunto alla cosa interessante è che mentre davo voce a quei valori e li mettevo nero su bianco quasi inconsciamente stavo scrivendo stavo tracciando una sorta di strategia per dare il mio personale contributo all'emancipazione femminile nel dire questo voglio rivolgermi soprattutto agli uomini presenti in sala quanti sono? alzate le mani gli uomini voglio vedere le mani? ok allora tutti voi rispettare ed amare fino in fondo la donna che vi sta accanto è il primo passo che potete fare per dare il vostro personalissimo contributo all'emancipazione femminile piano un attimo piano perché qualcuno a questo punto potrebbe dirmi beh io non ho una compagna a fianco io sono single come posso dare il mio personale contributo all'emancipazione femminile? allora vorrei ricordare che Orlando lo stesso Orlando che mi ha dato l'assist per iniziare questo speech oggi qui con voi oltre ad essere furioso era pure single e quindi Orlando costituisce l'esempio perfetto di come nella conquista di una donna si debba essere tenaci si debba essere tenaci ma senza perdere di vista la sensibilità e la premuria perché? perché nella conquista di una donna la sostanza del nostro desiderio è delicata e meravigliosa e allora vorrei concludere così vorrei concludere dicendo che l'emancipazione femminile non è un concetto astratto non lo deve diventare tantomeno deve diventare un'utopia l'emancipazione femminile è un processo l'emancipazione femminile è un processo che si realizza giorno dopo giorno da dove si comincia in questo processo? adesso ve lo dico subito si inizia come ho detto in questo speech dal rapporto di coppia in cui siamo coinvolti si arriva dove? si arriva al modo in cui ci approcciamo più in generale all'universo femminile e dell'emancipazione femminile noi non percepiremo tanto i risultati nel benessere collettivo noi dell'emancipazione femminile percepiremo i risultati nel nostro benessere personale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti